Lettera aperta del promotore del movimento cittadino prima di tutto in Issenia, Rialto Giammusso, che lamenta il degrado in cui versa la città di Caltanissetta, soprattutto in prossimità della Fontana Tripiciano e del Comune. Nella lettera a Giammusso si riferisce anche alla violenta rissa di due sere fa, finita a coltellate, che ha portato al ferimento di un pakistano, imbrattando di sangue la pavimentazione antistante un ingresso di Palazzo del Carmine. Le immagini che girano sui social, dichiara Giammusso, sono sconcertanti. Non ci importa quali siano i motivi, continua l'imprenditore. Ci preme ancora una volta sottolineare che chi ha perso veramente ed ancora una volta è la nostra Caltanissetta. Poi ci domandiamo perché quasi nessuno dopo le 19 frequenta la piazza o il perché i negozi e le pizzerie chiudano i battenti. L'isola pedonale, isolando di fatto le principali arterie del centro, ha sostanzialmente favorito la proliferazione di atteggiamenti violenti o indecorosi. Come sempre l'amministrazione comunale è assente e ingiustificato. Poi Giammusso incalza. Qualcuno spieghi a Ruvolo che non basta inaugurare associazioni interculturali, organizzare banchetti di fine Ramadan, portare imam nelle nostre scuole e parlare di città vocata all'accoglienza per risolvere le numerose criticità che insistono sulla zona. Occorrono misure concrete sul fronte della sicurezza e della lotta al degrado. Giammusso conclude facendo un appello al prefetto e chiedendo di istituire una postazione delle forze dell'ordine che presidi piazza Garibaldi 24 ore su 24 e di abolire immediatamente l'isola pedonale. Solo in questo modo, aggiunge, può essere restituita la sicurezza e tranquillità ai misseni che vivono o che vogliono frequentare il centro storico.